Buonasera e un caro saluto agli amici di AV Magazine. Come vedete ci troviamo in questi pomeriggi per l'ascolto delle Vivid Audio. Con l'occasione non manca una carrellata delle mie incisioni di riferimento per quanto riguarda il pianoforte. E parlando di pianoforte, pochi secondi per presentarvi l'anteprima del disco del mese, che uscirà fra pochi giorni, questa volta dedicato ad una pianista che probabilmente avete, se non sentito, almeno visto. Stiamo parlando di Yuja Wang, questa straordinaria interprete, che interprete virtuosa, interprete anche sensuale a suo modo, tant'è che i musicofili più parrucconi ne hanno anche avuto modo di parlare male. Allora, c'è un'ampia discografia a disposizione, tutta su etichetta Deutsch Grammophon. Il disco che io vi consiglio, addirittura il primo brano semplicemente, è uno dei preludi di Rachmaninoff, lo trovate in questo recital da Berlino, ed è un'incisione spettacolare che trovate anche in 2496, alta definizione. Un altro disco, Sonate Studi, Chopin, Scriabin, Ligheti, molto interessante. Se la volete ascoltare con l'orchestra, il numero due dei concerti di Rachmaninoff, insieme ad Abbado, ed è ovviamente uno dei suoi primi album. E piacerà molto ad Emidio quest'altro disco, dove c'è l'impervio concerto di Prokofiev, il numero due, e il numero tre, il celebre Rack 3, concerto numero tre di Rachmaninoff. In questo caso abbiamo Gustavo Dudamel alla direzione. Ma non basta. Per chi è appassionato di video, troverà su YouTube molte testimonianze, in audio e in video, di Yuja Wang, ma la trovate anche sul sito della Filarmonica di Berlino, perché è protagonista di diversi concerti insieme ai Berliner Filarmoniker, e quindi la potete vedere nelle immagini in alta definizione e ascoltare con un audio di notevole qualità, proprio sulla piattaforma digitale della Filarmonica di Berlino. Grazie e un approfondimento su AV Magazine a breve. Buon ascolto.